Buongiorno ai telespettatori di LACI, benvenuti ad una nuova edizione della nostra rassegna stampa, oggi sabato 4 marzo, andiamo a scoprire insieme i titoli dei principali quotidiani nazionali e regionali, questa mattina in edicola a tenere banco sulla stampa nazionale e la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il padre dell'ex premer Matteo Renzi, quindi gli appalti Consip, mentre sulla cronaca regionale ha ampio spazio al sequestro del parco eolico più grande d'Europa, quello di Crotone, a cui la magistratura ha messo i sigilli. Partiamo però subito dalla prima pagina di Repubblica che, come dicevo in anteprima, dedica ampio risalto alla vicenda Consip, qualcuno, scrive Repubblica, avvisò gli indagati e l'ex premer Renzi difende così il padre, se papà colpevole, pena doppia. Telefonata di un amico all'imprenditore russo, svelò le intercettazioni, non chiamare il babbo. Tiziano, quattro ore da IPM, ho mai visto Romeo, io vittima, l'ex premer difende Lotti, onestà straordinaria. Ed è chiaro che questa vicenda, più delle questioni politiche, tiene banco sulle prime pagine dei giornali, ma c'è anche sulla prima pagina di Repubblica un'analisi rispetto al posizionamento politico dei partiti, dunque alle sondaggi, scissione e giudici. PD ne risente quindi di questa vicenda e cala nel gradimento. Movimento 5 Stelle, primo partito, in calo anche Forza Italia e Lega. Vediamo brevemente quali sono i dati aggiornati a marzo 2017 sulle stime elettorali. Il Movimento 5 Stelle, come dicevamo, è il primo partito con il 28,8, mentre a febbraio era al 26,6. Il Partito Democratico in flessione al 27,2, fa registrare appunto un calo di più di due punti percentuali. Forza Italia scende a 11,5 dal 13,2 e così la Lega Nord e Fratelli d'Italia. Proseguendo sulla prima pagina di Repubblica le analisi sono evidentemente dedicate alla notizia del giorno, quindi quei controlli scattati dopo il referendum e l'inchiesta appunto Consip, il caso il Giglio Magico, l'avvocato con la consulenza d'oro. Quindi approfondimenti sulle pagine interne di Repubblica. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera che dedica evidentemente il titolo principale alla stessa vicenda e alla dichiarazione dell'ex premier Renzi. Se è colpevole, pena doppia. Forza Italia non voterà alla sfiducia a Lotti, l'ex premier, il congresso non sarà rinviato. Renzi sul padre interrogato ieri, Russo disse a Romeo, Tiziano è a disposizione. Anche qui il coinvolgimento del ministro Lotti, quindi i tormenti di Luca, sento un clima da 4 dicembre e ancora altre analisi, i timori del tutti contro tutti. C'è anche la cronaca sulla prima pagina del Corriere della Sera con l'incendio al ghetto in Puglia, i due migranti bruciati vivi nell'incendio del Gran Ghetto. Vediamo brevemente di cosa si tratta. Le fiamme hanno inghiottito in un attimo le baracche del Gran Ghetto di Rignano, nel Foggiano. Almeno 300 immigrati si sono messi in salvo, due di loro però non ce l'hanno fatta e sono morti nel rogo del rifugio dove dormivano. La politica ancora nella prima pagina del Corriere della Sera con la svolta di Gentiloni, stretta sull'evasione dell'IVA, tagliare la spesa e le tasse sul lavoro. Ci sono poi i dati dei guadagni dei ministri, il richiamo è alle pagine interne del Corriere della Sera, nelle tasche dei ministri, redditi fedeli, dichiara il triplo di Padoan. Dalla Corriere della Sera passiamo all'Unità, quindi ancora la stampa nazionale, che dedica l'apertura appunto alla vicenda che ha visto coinvolti in un campo in cui vivono dei migranti in Puglia e così muoiono i nostri nuovi schiavi. Rititola l'Unità Puglia-Bruccia e il granghetto di Lignano-Garganico perdono la vita due braccianti africani. Intervista alla vice ministra Bellanova, reportage dal campo nel mirino di clan e caporali. Anche sull'Unità evidentemente, la vicenda giudiziaria della Consip, Matteo Renzi pena doppia nel caso mio padre sia colpevole. Continuando sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo su quella della stampa e quindi vediamo anche qui, ritorno alla cronaca giudiziaria, la maxi tangente con i soldi all'estero, i dialoghi tra Russo e Romeo, ti pagherò 100 mila euro ma a Dubai, non a Dubai ma a Londra. Tiziano Renzi, quattro ore davanti a EPM, abusato del mio cognome, l'ex premier, se colpevole, pena doppia. Spostiamoci sulla prima pagina del Corriere del Sole, 24 ore, che focalizza l'attenzione sui controlli sulle residenze fittizie all'estero, quindi il fisco che stringe i controlli sulle residenze all'estero, sotto osservazione acquisti, utenze, conti correnti e auto in un provvedimento delle entrate, la linea guida per individuare redditi e capitali non dichiarati. Dal Sole 24 ore al messaggero, anche qui la cronaca giudiziaria che scuote la politica italiana, il padre da EPM, Renzi, in trincea, quattro ore di interrogatorio per il papà dell'ex premier, abusano del mio nome ma in procura, non gli credono, e Matteo rilancia se colpevole, pena doppia. Andiamo sulla prima pagina di Libero, brevemente, per scoprire come apre il quotidiano. Veneto e Lombardia preparano la fuga, quindi si cambia radicalmente argomento il referendum per l'autonomia fiscale. Il governatore Zaia scrive al Libero Io e Maroni vogliamo tenere le tasse sul territorio, solo così possiamo generare ricchezze per tutto il Paese ed evitare le spese pazze delle regioni spreconi. Da Libero a Il Fatto Quotidiano, Mister X a Fiumicino avvisò Babbo Renzi e l'uomo di Matteo allertò il fido russo, quindi nuovi dettagli sulla inchiesta Consip. Infine il giornale che titola Papà Renzi, show dai giudici. I miei incontri volevo solo far mettere una statua della Madonna e Matteo lo difende dagli sciacalli. Se è colpevole, pena doppia. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani nazionali per scoprire invece cosa titolano i quotidiani regionali partendo dalla Gazzetta del Sud. Qui trova ampio spazio la vicenda di cronaca del sequestro del parco eolico di Isola Caprizzuto. Sigilli al parco eolico degli Arena, titola la Gazzetta del Sud. La Guardia di Finanza sequestra per la terza volta l'impianto più grande d'Europa. La DDA, le mani della Cosca sulla realizzazione e la gestione di 48 aerogeneratori. Su questa vicenda noi vediamo subito un servizio dal nostro telegiornale. ...di controlli su un territorio, quello del Crotonese, il cui respiro era gestito da una delle famiglie di indrangheta di Serie A, ovvero quella degli Arena, hanno portato al sequestro di beni per un valore di 350 milioni di euro. Tre le società sequestrate e relativi complessi aziendali, tra cui il parco eolico di Isola Caprizzuto, Wine Farm, tra i più grandi d'Europa. Da qui il nome dell'operazione Isola del Vento, condotta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria Gico di Catanzaro, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Crotone, che con rogatoria internazionale ha riguardato diversi paesi d'Europa. Questo è un contesto molto difficile e molto complesso, con schermature estere, con prestanome, con soggetti tedeschi, svizzeri, della Repubblica di San Marino, che si interponevano per dissimulare l'effettiva proprietà di questi beni. L'obiettivo degli Arena era quello di dissimulare, di far perdere le tracce nel possesso, nella disponibilità di questo grandissimo parco eolico. E' Arena Pasquale il destinatario della misura ablativa. Lui, Longamanus della Cosca, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Isola Caporizzuto e nipote del capo clan Nicola, attualmente detenuto in regime di 41 bis, e fratello del boss Carmine, ucciso in un agguato nel 2004. Una pubblica amministrazione intrisa di uomini incensurati, apparentemente che non hanno nulla a che fare con l'Andra, di fatto serventi e funzionali a questi piani criminosi che drogano, che fanno saltare le regole anche del libero mercato. Restiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, edizione di Catanzaro, Vibo Valencia e Crotone, per scoprire cos'altro ci propone il giornale questa mattina. A centro pagina una grande fotonotizia dedicata all'avvertenza del porto di Gioia Tauro, il porto di Gioia verso la ripresa delle attività, il confronto in prefettura su un'avvertenza che, titola Il Quotidiano, sembra infinita. Ancora dalla prima pagina, Oliverio al contrattacco, si parla di sanità, Scura ha fatto un disastro a Catanzaro, candidato sindaco, il PD, punta su Ciconte, ancora a Squillacelido, un incendio devasta, il ristorante si propende per una pista dolosa. Restando alla Gazzetta del Sud, nel taglio alto, altre vicende di cronaca giudiziaria, Catanzaro Polì, chiesto il processo, 24 indagati, per le presunte irregolarità al Comune. A Zungri, nel Vibonese, uno scherzo da prete, scatena i social. Ancora dalla Gazzetta del Sud, una notizia che abbiamo trovato anche sulla stampa nazionale, ed è quella relativa ai redditi dei politici, redditi 2016, un po' di conti nelle tasche dei politici di casa nostra. Sono state rese pubbliche le dichiarazioni dei redditi 2016 dei politici. La ministra Valeria Fedeli è la più ricca, con un'imponibile di 180.921 euro. Secondo Dario Franceschini, 148.692, in coda a Maurizio Martina, con 46.750 euro, mentre i redditi Beppe Grillo precipitano a 71.957 euro, mentre nel 2015 dichiarava 5 volte di più. E poi ci sono giù di 5.000 euro anche Matteo Renzi, che oggi è a 103.283 euro. Andiamo a scoprire la prima pagina della Gazzetta del Sud dell'edizione di Cosenza. Cambia poco nelle notizie principali, ci sono però dei richiami di cronaca. Quindi vediamo a Cosenza e rivalcrati le ultime tracce del superboss Nicola Assisi, arrenda e spacciatrice 25enne ammanettata dai carabinieri. Ancora l'operazione della Procura di Paola, società fittizie, 14 arresti, le fiamme gialle hanno disarticolato, un'organizzazione di evasori. E a Cosenza la politica Spataro entrerà in giunta. Da Cosenza passiamo a Reggio Calabria, sempre sulla Gazzetta del Sud. Vediamo a Riace la protesta dei migranti che blocca la statale 106. A questa vicenda, che ha fatto molto discute nella giornata di ieri, è dedicato il nostro prossimo servizio. «Vai fuori dove dormi? Vai e dormi sotto alberi. E dove dormi? Dove stati? E come vivere senza documenti? Se non serve questo problema ancora, ancora, questo è un grande problema di documenti. Tre anni siamo qui senza documenti. Adesso sto dicendo vai fuori. Come facciamo? Come vivere senza documenti? E senza soldi? Come mangiamo? E loro sto dicendo vai fuori. Vai fuori dove dormi noi? E dormi sotto alberi. Anche io ho un problema. Io ce l'ho in famiglia. Uno bambino, uno madame. Non c'è lavoro a casa. Adesso parlo io all'azienda. Io ho progetti finito. Vai fuori. Dove vai? Bambino piccolo. Io non lavoro. Solo documenti. Due anni ho documenti. Solo documenti. Senza lavoro. Parlo io. Vai fuori. Sei mesi non paga perché c'è money. Buonissi tutti i mesi. Buonissi problema. Anche mangia problema. Parlo e vai fuori. Che è scrivato il Presidente d'Italia? Parlo io. Vai fuori. Non aiutare io. Io non c'è lavoro. Non c'è niente. Niente. Dunque da Riace passiamo al Quotidiano del Sud. Nell'edizione di Catanzaro, Lamezza e Crotone. Anche qui evidentemente ampio risalto alla vicenda del parco eolico. Eolico soffia forte il vento del pentito. La collaborazione di Giglio con i PM antimafia fa scattare i sigilli per 350 milioni. Si è sequestrato l'impianto di Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi di Europa. Il ruolo di Arena, dirigente comunale, Gratteri, una fitta, rete di società e prestanomi. C'è poi anche sul quotidiano la focus, insomma, sui guadagni dei politici, con particolare riguardo a quelli calabresi. Ecco quanto guadagnano i parlamentari calabresi. L'imponibile più alto è dichiarato dal senatore Dascola, cinque volte quello di Padoan. Dalla politica alla cronaca nuovamente, con Sarra che a Reggio Calabria si difende e fa i nomi dei fedelissimi di Romeo. Piene di omissis le dichiarazioni bollenti dell'ex sottosegretario regionale, ora imputato. Leggiamo ancora nel dettaglio, massoneria, politici, clan. Su questo intreccio di rapporti sta parlando Alberto Sarra, ex sottosegretario regionale, ora imputato. Sarra non è un collaboratore di giustizia, ma sta facendo molti dei nomi dei fedelissimi di Romeo e del sistema Reggio. A questa vicenda è dedicato un servizio che vediamo subito. Non si tratta soltanto di riflettere, caro Paolo, ma anche di fare. Un disegno politico per consentire a Paolo Romeo di poter avere un peso rilevante, tanto alla provincia quanto nella neonata città metropolitana. Si inquadrerebbe in quest'ottica la nomina d'assessore provinciale nella giunta raffa di Edoardo Lamberti Castronuovo, noto imprenditore ed editore regino. A rivelarlo è l'ex sottosegretario della regione Alberto Sarra nel suo interrogatorio del 10 febbraio scorso davanti al PM Giuseppe Lombardo. Sarra colloca Lamberti Castronuovo fra le persone all'interno della rete relazionale dell'avvocato Paolo Romeo. L'ex sottosegretario parte dai problemi riguardanti le modalità con cui Lamberti fu nominato assessore, tanto che all'epoca le lamentele arrivarono direttamente al presidente della provincia Giuseppe Raffa. Il gruppo di Sarra infatti sosteneva D'Agostino. Ho poi capito, spiega l'ex amico di Peppe Scopelliti, che la nomina di Lamberti formalmente indicato da Elio Belcastro in realtà era voluta da Paolo Romeo e dal suo gruppo. Sarra tuttavia non sa dire in che modo si possa ipotizzare la consapevolezza di Raffa o la sua adesione a quella scelta. Però di un fatto è certo, la designazione quale assessore condelega la cultura e la legalità va inquadrata nell'interesse di Romeo ad ingerirsi nell'attività politica della provincia. Così come la successiva candidatura a sindaco di San Procopio di Lamberti è da leggersi in una più ampia strategia, sempre di Romeo, diretta a collocare l'imprenditore nel consiglio della città metropolitana dello stretto. Accuse tutte da dimostrare, certo, ma che in qualche modo confermano le intercettazioni captate nello studio di Romeo, dove lo stesso dichiarò di aver voluto lui, Lamberti Castronuovo, quale assessore della provincia regina. Consolato Minniti per la CNews 24 Dunque nuovi dettagli su questa vicenda che continua a far parlare molto. Restiamo sulla prima pagina del Quotidiano del Sud nell'edizione di Catanzaro per scoprire nel taglio basso una notizia di politica, ovvero alla fine il PD sceglie Ciconte. Verso le comunali e nel capoluogo, carta bianca sulle eleanze al possibile candidato sindaco. Il consigliere regionale si è riservato dunque l'accettazione dopo una serie di incontri. La cronaca fa capolino ancora nella prima pagina del Quotidiano. Da Rossano, bosco sfregiato, taglio abusivo di 3.000 alberi. Vediamo nei richiami. In prima pagina ancora il porto di Gioia Tauro. Nulla di fatto nella riunione in prefettura. E da Squillage, un ristorante distrutto dalle fiamme. Ancora da Crotone dove sull'elisoccorso è stato chiesto un incontro a Scura. E infine una notizia di società studio rivela il super cervello degli chef. A condurlo il CNR di Catanzaro. Quotidiano del Sud ancora l'edizione di Cosenza. Cambia solo il taglio basso dedicato evidentemente alle vicende della città Abruzia. Con la metro leggera, stangata, pesante. A Cosenza esternati i sospetti sull'accordo di programma sponsorizzato da Oliverio. Secondo i grillini il progetto graverà sui cittadini per 19 milioni di euro. Spostiamoci sull'edizione regina del Codidiano del Sud con un dato di economia ed imprese. Aumento il numero delle imprese. I dati elaborati dall'ente camerale, dunque la Camera di Commercio, si ritorna sui livelli prima della crisi. Tra i settori vanno bene commercio e agricoltura. Boom di attività giovanili. Infine la prima pagina del Codidiano del Sud dell'edizione di Vibo Valencia che dedica la notizia locale al casa di Nazareth. Quindi una struttura di ospitalità. Ospiti costretti a lasciare, citato il caso di una giovane donna. La notizia è accolti soltanto due anni. Poi via una denuncia di Cutrullà e Russo, consigliere provinciale e comunale del PD, che ce l'hanno con la regione che non paga la retta. Ora abbandoniamo il Quotidiano del Sud per scoprire gli altri quotidiani calabresi partendo dalla provincia di Cosenza che titola La Sanità martedì diventerà nostra il riferimento alla seduta del Consiglio dei Ministri e alla designazione di Oliverio al posto di Scura. La salute prima di tutto, così uomini vicini al governatore raccontano l'esito dell'incontro con Renzi. Ancora dalla prima pagina della provincia di Cosenza, la cronaca all'ASP di Cosenza, i contenziosi superano il miliardo. C'è poi dal Tirreno, Cosentino, c'è sempre Agostino, Iacovo, nei guai per riciclaggio nel Pollino, a Castrovillari, Sittin di protesta a difesa del consultorio familiare. Infine la Ionica con Calabria Verde a Rossano, altra legna che sparisce. Dunque dalla prima pagina del Quotidiano della provincia di Cosenza ci spostiamo al Quotidiano Cronache della Calabria. Qui vi è ancora un richiamo alla politica. Il veleno, secondo Matteo, titola il Quotidiano. Ieri la riunione del PD alla mezza per gli adempimenti statutari in vista del congresso, ma resta qualche malumore nel partito. Dopo la visita di Renzi in Calabria, intanto arriva l'ufficialità a Catanzaro. Il candidato a sindaco sarà Enzo Ciconte. C'è ancora spazio per la cronaca sulla prima pagina del Corriere, del, chiedo scusa, cronache della Calabria. Colpo alla Cosca Arena, sequestrato il palco eolico. Lasciamo le prime pagine per concentrarci invece sulla cronaca locale, partendo dalla Gazzetta del Sud, cronaca di Catanzaro, che nella prima pagina interna propone la vicenda Catanzaropoli, il PM, processo per 24 imputati. Secondo l'accusa, l'inchiesta avrebbe svelato una serie di presunte irregolarità nella gestione del Comune. Non si deve procedere per morte del Reo nei confronti di Francesco Leone, stilato il calendario delle udienze. A questa vicenda giudiziaria è dedicato il nostro servizio. Favori, abusi ed anche sesso in cambio del semplice rinnovo di una carta d'identità, c'è di tutto nell'inchiesta denominata Catanzaropoli, per la quale il pubblico ministero della procura di Catanzaro, Graziella Viscomi, ha stamane chiesto al GUP il rinvio a giudizio nei confronti di 24 indagati. Fra loro anche l'attuale consigliere regionale Domenico Tallini, ex Forza Italia, ora gruppo misto, che risponde nelle vesti di consigliere comunale di Catanzaro, insieme all'altro consigliere comunale Carlo Nisticò. Avrebbero fatto da intermediari con il tenente coronello della Polizia Municipale Salvatore Tarantino, pure lui indagato, per non fare verbalizzare alcune violazioni edilizie in un ristorante del quartiere Marinaro. Quindi, presunti favori per la nomina di un architetto per i lavori dei musei del complesso monumentale San Giovanni ed anche l'appalto truccato per il noleggio di gazebo in occasione della notte piccante del 2013. Rischiano il processo pure gli ex assessori comunali Massimo Lomonaco e Stefania Lo Giudice, il direttore dell'area tecnica del comune Giuseppe Cardamone, il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Salerno e il medico militare Raffaele Luigi Riso. Nessun indagato ha richiesto un processo con rito abbreviato. Da Catanzaro per l'AC News 24. Da Catanzaro ci spostiamo a Cosenza, sempre nelle pagine interne della Gazzetta del Sud. Qui troviamo la notizia di politica che riguarda il comune. Spataro scioglie le riserve via libera al rimpasto. Nell'esecutivo anche Francesco De Cicco, già titolare di delega, un ruolo pure per Alessandra De Rosa. Il consigliere comunale appartenente al gruppo dei cosiddetti federati, ieri avrebbe deciso di accettare l'incarico di assessore. Ci spostiamo a Reggio, dove c'è un focus sulle condizioni della viabilità. Le strade si squarciano, centinaia di buche, pochi i soldi in bilancio per gli interventi tampone. È solo una squadra assegnata al settore. Nei primi due mesi dell'anno sono già 293. Le segnalazioni al comune grave, la situazione soprattutto tra Catona ed Archie. da Reggio a Bibbo, Valencia. Qui la politica in prima pagina interna della Gazzetta del Sud. Comune cambia la maggioranza, è stromesso pure il gruppo di Pasqua, nonostante il dialogo aperto con il sindaco. Fuori, NCD e UDC, il confronto tra Costa e i referenti delle liste, finisce per restringere la coalizione. Lasciamo la Gazzetta del Sud, ci spostiamo nelle cronache interne del quotidiano del Sud a Catanzaro che titola Se la vi sarà restaurata all'ennesimo appello dopo il danneggiamento dell'opera di Lim al Parco. Il presidente della provincia, Enzo Bruno, serve vigilanza civica. Da Catanzaro a Cosenza, metro leggera, stangata, pesante. Una notizia che abbiamo già visto in prima pagina. C'è poi un'altra notizia di cronaca, avvocato bicchiato, solidarietà dell'ordine. E infine ciclista ucciso, l'accusa è di omicidio stradale. Lasciamo Cosenza per spostarci al Reggio dal quotidiano del Sud con il report sulle imprese. Aumentano le imprese, come già abbiamo avuto modo di vedere. E poi la cronaca getta nella Iuola 25 dosi di marijuana minore ai domiciliari. Infine, Vibo Valencia sul quotidiano del Sud, con la vicenda che torna della casa di Nazareth, accolti soltanto due anni, poi via ospiti costretti a lasciare. Citato il caso di una giovane donna. C'è però la replica del consigliere regionale Mirabello che sulla stessa vicenda assicura siamo in cerca di una soluzione. Dalle cronache regionali torniamo su quelle nazionali con un ultimo passaggio dedicato allo sport. lo facciamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport che dedica la notizia centrale alla sfida Roma-Napoli Olimpico alle ore 15 sfida totale all'alta quota Roma-Napoli vale per tutti. Spalletti per la corsa Scudetto Sardi per rilanciarsi e avvicinare il secondo posto fondamentali Niangolang e Amsic vietato sbagliare Juve Atalanta Lazio e Inter spettatrici interessate. C'è poi la vicenda che riguarda il Milan il titolo è Thriller Milan Closing niente proroga in sette giorni altra caparra o nuovi investitori Montella zero alibi e stasera col Chievo punta ancora su Bacca. Siamo in chiusura la nostra segna stampa finisce qui non ci sono aggiornamenti da fare io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi una buona giornata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie.